Superato il primo terzo di campionato, Pontevecchio e Ducato si sfidano a Dei Ornari per trovare un rimedio a periodi non certo esaltanti, rispettivamente 3-4 punti negli ultimi 5 turni, ed una vittoria che manca ad entrambe dalla quarta giornata. Vittoria che tra l'altro significherebbe un passo esaltante in una classifica che all'alba dell'undicesima giornata di partite vede 11 squadre in appena 8 punti. Formazione rimaneggiatissima per Martinetti che deve fare a meno di Fuscagni squalificato e degli infortunati Tramontano, Bufi, Silvestri e Regni con gli ultimi 3 comunque in panchina. Squadra quindi schierata con il 4-4-2, tra i pali c'è Guerra in difesa Cacciari, Ceccarelli, Minelli e Casciani. Al centrocampo Morucci, Pigazzini, Arcioni e Passeri in attacco Barboni e Mecarelli. Anche Ricci deve fare i conti con le assenze di Cola, Ammenti e Pergolesi fuori per squalifica dell'infortunato Raspa, adottando così il 3-5-2 delle ultime uscite. Con Carsetti fra i pali, Ferretti, Barbetta e De Palma il trio di difesa, Moretti, Piantoni, Fedeli, Emili e Pazzogna sulla mediana, Tomassone e Capitolo va a far coppia in avanti. Ed iniziano meglio gli ospiti con Moretti che al 13esimo viene lanciato in area di rigore, il suo tiro cross viene deviato in calcio d'angolo. Morucci riesce ad andare alla conclusione, ancora Carsetti a respingere, il tap-in di Mecarelli è vincente ma non valido per la sua posizione di fuorigioco. Ultima occasione del primo tempo al 45esimo proprio allo scoccare con Moretti che serve Capitolo il quale piazza il sinistro, bravo guerra a respingere con i piedi. Passiamo alla ripresa con al settimo Casciani che entra in area di rigore sulla sinistra e si scontra con Piantoni le proteste dei padroni di casa per un presunto calcio di rigore. L'arbitro, il signor Castrica della sezione di Terni non concede la massima punizione e palla che va a finire quindi in calcio d'angolo per la Ponte Vecchio. Al diciannovesimo risposta della Ducato con Capitolo che serve Fedeli in area di rigore, il suo sinistro al volo però termina alto. Un minuto dopo triangolazione e sponda di Capitolo e Mili con il destro, non inquadra il bersaglio. Ancora al venticinquesimo una palla morbida di Passeri, trova Pigazzini in area, il suo sinistro però termina a lato. Quattro minuti di recupero concessi nella finale e proprio allo scadere. Castricchini prima reclama un rigore per l'intervento in area, poi nella confusione riesce ad impossessarsi del pallone e provare un diagonale destro che però sibila a lato del secondo palo. Termina dunque 0-0 tra Ponte Vecchio e Ducato, il settimo pareggio stagionale per i ponteggiani, quinto per gli spoletini. Reti inviolate che quantomeno muovono la classifica e per la squadra dei Ricci rappresentano un importante progresso per quella che è la peggior difesa del campionato. Allora mister, una formazione a dir poco rimaneggiata per scelte degli altri sostanzialmente. Però uno 0-0 che rappresenta un punto preso o due punti persi comunque con una sorta di rivale in classifica. Certo, per noi era come uno scontro diretto, le assenze ce ne erano tante però chi è andato in campo non ha sicuramente sfigurato, anzi ha dato il massimo e quello che io ho chiesto. Abbiamo creato qualche pallagol, abbiamo fatto un gol buono da quello che mi risulta e purtroppo però, come dicevo prima, se non concretizzi le situazioni che crei, poi è difficile. Soprattutto quando ti mancano i due pezzi della 90 lì davanti che in due hanno fatto 11 gol. Davanti abbiamo giocato con la gioventù però non ha sfigurato, hanno dato il massimo, hanno fatto quello che potevano e sono veramente contento per loro. Allora mister, venuti qua con una formazione anche voi abbastanza rimaneggiata, è un punto preso, due punti persi, considerando che quantomeno quella che almeno era la peggior difesa del campionato oggi non ha preso gol. Punto preso, punto guadagnato, un punto perso lo vedremo fra qualche domenica. Sinceramente il primo tempo non ci siamo stati poco in partita, anche perché contro Vento si giocava male, il campo non è in buonissime condizioni, quindi c'è un po' un attimino penalizzato il primo tempo, il secondo tempo siamo stati dentro, abbiamo fatto molto bene, abbiamo avuto occasioni, abbiamo creato occasioni. Sì, qualche giocatore di meno, anche loro avevano qualche defezione, alla fine secondo me il pareggio è giusto perché anche loro hanno messo tanta buona volontà, tanta anima, tanta corsa e noi il primo tempo da questo punto di vista abbiamo un po' peccato. Però ci stiamo, non abbiamo preso gol per la seconda domenica consecutiva e quindi questo è positivo, sbagliamo forse ancora un po' troppi gol davanti, abbiamo un'occasione, un capitolo al primo tempo, il secondo tempo qui con Fedeli, con Gaci, però la squadra sta lavorando bene, quindi continuiamo a lavorare così, Sì, sempre con la speranza di trovare prima possibile questa benedetta vittoria che ci potrebbe dare magari quel piccolo slancio per continuare a lavorare anche con molto più entusiasmo.